Proprio lei attraverso i microfoni di Otto Channel aveva chiesto il sossegno delle istituzioni per le aziende sanite che intendono partecipare all'Expo. C'è stata una risposta? C'è stata una risposta, non nelle aziende, ma a volte viene anche da sorridere. Il presidente dell'ente camerale con una nota 15 giorni fa ha risposto a Nicola Romano. Ma io non ho fatto l'interrogazione all'ente camerale o alla provincia per dire signori che cosa vogliamo fare per l'Expo perché Nicola Romano teneva qualcosa da esporre. Assolutamente no, non ho nulla da esporre all'Expo. La domanda e l'interrogativo nasceva su delle richieste specifiche delle aziende. Ho sentito parlare di Italy, Farinetti, però che cosa devono fare le aziende sanite? Devono andare a portare il proprio prodotto e esporle nella piattaforma commerciale di un'azienda. Quindi non si va di fondo a pubblicizzare quella che è l'eccellenza sanita o quello che è il territorio sanito perché in fondo a noi ci interessava pubblicizzare quello che era il nostro sannio. Con i prodotti pubblicizzare il sannio, cioè legare il prodotto alla terra d'origine. Il caciocavallo di Castelfranco, la salsiccia di Castelpodo, i vini del taburno. Questa era l'idea di ConfCommercio, idea che non è stata proprio presa in considerazione né dall'ente camerale che era la casa madre e che forse un anno fa si doveva far carico di qualcosa, di questo progetto o di progetti similari. Dalla provincia non abbiamo avuto nessuna risposta, i comuni anche se interessati chiaramente non hanno un capofila, è difficile mettere insieme i comuni, i produttori men che meno perché parliamo di piccole aziende, di qualità ma sono comunque piccole aziende. E' un'altra occasione persa, io l'ho detto un mese fa, è un altro treno che perdiamo e secondo me questo negli ultimi 5 anni, negli ultimi 10 anni o nell'ultimo trentennio era il treno più importante da prendere. Era veramente questa l'occasione per valorizzare il sannio. Grazie a tutti.